Attenzione, questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. Qualcosa, dimmelo al muso tesoro, è inutile che parli e poi scappi. Codarda, oltre che sottona. Mi minaccia di dire una cosa davanti a tutta Italia che sta benissimo, che non voglio che si sappia. No, se zitta ti butto in piscina da fuoco una volta per tutte, hai rotto il c***o. Il denismo ha fatto scattare, era già un paio di giorni che non lo toglieravo. Tablet! Vai Dani, lo laggi tu. Tablet. Benvenuti ragazzi, davanti a voi avete un percorso pieno di ostacoli e tanto fango. I primi a sfidarsi saranno gli uomini, seguiranno le donne. In palio un premio speciale. L'uomo e la donna che taglieranno per primi il traguardo potranno fare una videochiamata a una persona a loro scelta. Buona gara. Fango, ragazze, maschi, queste cose a me mi fanno impazzire. Via! Che dà, che dà, che dà, che dà, che dà, che dà! Stasera qua ragazzi veramente, non so niente. Ti dico la mia, Mattia. Cioè, più che altro. Io se avessi te di fianco, Nikita, sinceramente non mi comporterai come fai tu, Mattia. Mi fai male, Fred, vado fuori di testa, Fred. Ora facciamo un po' la sfida. Vieni un po' qua tu, visto che hai 22 anni del c***o. Ci mettiamo qua. L'intenzione che ho adesso è cercare di ripaccare, sperando di rimediare alla figura che ho fatto. Nikita, Greta e Fabiana, tocca a voi. Andate in spiaggia ad accogliere il nuovo ex. Vai! Oddio. È il nome mio, l'ho visto, è tatuato, è tatuato. Ciao, sono Matteo, ho 30 anni, e sono l'ex di Fabiana. Vieni, vieni. Grazie. Vieni, 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 vieni.